Cari fratelli e sorelle nerazzurre, sono sempre Don Gigi Inter. Innanzitutto ringraziamo il Signore per aver osservato dall'alto domenica sera la sfida tra la nostra amata squadra e diavoli rossoneri. E dopo essersi distratto nel primo tempo, ha fatto in modo che la questione venisse messa a posto nella ripresa, consentendo alla nostra amata Inter di ribaltare e vincere l'incontro, rifilando tra andata e ritorno un bel set ai cugini rossoneri. Ah già, noi non abbiamo cugini, me lo dimentico sempre. Contemporaneamente però vorrei fare un piccolissimo appunto al Signore che mercoledì sera si è dimenticato che c'era la sfida di Coppa Italia con il Napoli e infatti si è vista la differenza anche nella prestazione dei nostri giocatori, che non sono stati all'altezza in entrambe le frazioni di gioco e non solo nel primo tempo. Bene, cari fratelli e sorelle nerazzurre, dopo questo giusto preambolo andiamo a parlare della partita di questa sera, perché dopo il derby stracittadino arriva la partita con i nostri fratelloni laziali. E stasera, per 90 minuti più recupero, la nostra amicizia diventerà una sfida senza esclusione di colpi, ma con grande realtà naturalmente cavalleresca, perché questa sera si dovrà dimostrare quale delle due squadre è più degna di essere l'antagonista dell'innominabile, che oggi pomeriggio dovrebbe fare un sol boccone del derelitto, Brescia. Poi la palla è rotonda, tutto può accadere. Comunque io questo video lo sto facendo prima o durante la partita, quindi non so che risultato ci sarà in Juventus-Brescia. Ecco, l'ho nominata, ahimè. Visto e considerato che sono ben trasferte consecutive che si vince a Roma con i nostri fratelli laziali, sarebbe bene che si proseguisse con questa bella striscia positiva. Detto questo, miei cari fratelli e sorelle nerazzurne, finalmente c'è da notare che siamo riusciti una volta tanto ad approfittare della sconfitta della nostra nemica odiatissima, cosa che in questo campionato non era successo, era successo raramente. Quindi sarebbe bene, dato che gli siamo nuovamente appiccicati alla pari, di continuare a starci. In ogni caso, come ogni settimana, vi leggerò la mia missiva al Signore, nella speranza che abbiano un momento per ascoltarmi ed esaudirmi, come ha fatto la settimana scorsa e in molte settimane precedenti negli ultimi ormai due anni. Quindi, come sempre, mi tolgo il cappello, faccio vedere lo scarso crinito e andiamo a leggere la letterina. Dalla ventiquattresima lettera del 2019-2020 del Don Giginte al Signore. Cari fratelli e sorelle nerazzurre, preghiamo fortissimamente il Signore in vista di questa importante partita che non solo vale per confermare il nostro primo posto in classifica, seppure probabilmente ancora a pari merito con la nostra nemica odietissima, ma soprattutto perché ci permetterebbe di aumentare ulteriormente il nostro vantaggio sulla Roma, quinta in classifica, a ben 18 punti, pensate, 18 punti, quindi quasi ipotecando la qualificazione alla prossima Champions League, che è il primo traguardo da raggiungere magari appena prima o dopo Pasqua. Come avevo detto settimana scorsa, cari fratelli e sorelle nerazzurre, nella vita è importante sempre mettere dei piccoli step sul nostro cammino, in modo da aver sempre un motivo per tenere alto il morale. Prima si conquista la qualificazione alla Champions e poi si passa all'obiettivo successivo e poi, e poi, e poi. Vabbè, come dicevo la scorsa settimana, non poniamo limiti alla divina provvidenza, chiediamo sempre e vediamo che succede. Chiedere non costa nulla, provare non costa nulla, se non provi hai già perso. Come dicevo un cantante di cui non mi sovviene il nome, ci fosse anche solo una probabilità? Giocala. Bene, dopo aver visto le probabili formazioni andiamo a fare le nostre richieste al Signore. Come prima cosa preghiamo fortissimamente il Signore per il nostro secondo portiere Daniele Padelli, che si spera tiri fuori una prestazione almeno più che sufficiente e non sia invece subissato da epiteti poco carini, come è successo dopo la partita di settimana scorsa. Quindi preghiamo nuovamente il Signore e lì ci vuole veramente un miracolone che gli permetta di mantenere la sua porta inviolata o almeno di prendere un gol meno del suo collega dall'altra parte del campo, che sarebbe la cosa più importante. Dopo aver fatto la richiesta al Signore per il nostro portiere di scorta, veniamo a chiedere un aiuto particolare per i nostri tre difensori che dovrebbero essere Godin, De Vrij e Scrinia, a meno che non vorrà rimettere ancora D'Ambrosio, non lo so per ora, ho visto Godin, De Vrij e Scrinia, che dovranno, ahimè, vedersela contro il super bomber immobile e tutto il resto della Lazio, anche se settimana scorsa Ciruzzo Loro non ha segnato contro il Parma e si sperano resti a secco anche questa domenica, tanto avrà altre 14 giornate per segnare tante reti e recuperare. Quindi preghiamo il Signore che i nostri difensori sappiano difendere bene, scusate il gioco di parole, la doppia ripetizione, quello che volete, e facilitare il più possibile il lavoro del nostro portiere, che sappiamo purtroppo non essere fenomenale, ahimè, come il titolare. Dopo aver pregato per i nostri difensori, preghiamo tantissimo il Signore per il nostro centrocampo e chiediamo al Signore, sempre nella sua infinita bontà, che permetta a Vecino di segnare anche oggi, come è già successo nel derby e come è già successo spesso con la Lazio, a Barella di fare un'ottima partita senza farsi nuovamente ammonire, come anche in questo caso è già successo nel derby e a Brozovic di giocare un'ottima partita, ma non solo per un tempo, ma per tutti i 90 minuti, come ha giocato nel secondo tempo nel derby e se poi anche lui dovesse segnare una rete sarebbe veramente il massimo. Dopo aver pregato per il trio di centrocampo, passiamo ai due giocatori che si occuperanno delle corsie esterne, cioè Young e Candreva. Quindi preghiamo il Signore che consente al secondo, anzi sì al secondo, di sfornare tanti degli assist per i compagni, visto che ahimè settimana scorsa nel derby gli è stato preferito un mister 5,5 Biraghi e purtroppo si è visto e al secondo, adesso sì, di segnare finalmente il suo primo gol dell'ex, alla sua ex squadra, scusate anche qui la ripetizione, ma ripetita Juventus Reston. Infine l'ultima preghiera è per il ritorno finalmente, anche se sono mancati solo due partite, per la nostra coppia d'attacco Martinez e Lukaku e chiediamo al Signore che permetta ad entrambi di tornare a segnare ensemble come ci hanno spesso abituati in questa prima metà di stagione. Bene, ringraziando come sempre il Signore per aver così pazientemente ascoltato le nostre umili richieste, recitiamo la preghiera che Gesù ci ha lasciato più di duemila anni fa e in attesa che anche Don Mario, anzi il vescovo Mario Inter, ormai cardinale, si degni ogni tanto di fare una preghiera speciale per la nostra amata Inter, ma credo che stia attendendo una partita veramente degna di questo suo interesse personale, sarò molto mobilmente io a fare le sue veci e a scriverla ogni settimana. Quindi recitiamo insieme. Padre nostro Inter che sei nei cieli in erazzurro, sia santificato il tuo nome e venga il tuo regno e fai tornare possibilmente anche quello dell'Inter, se poi fosse come nel 2009-2010 sarebbe molto bello, ma va bene anche uno simile. Sia fatta la tua volontà come in cielo o così in terra, ma soprattutto fai vincere l'Inter e in questo caso sarebbe cosa buona e giusta, visto che la nostra amata squadra con questa vittoria potrebbe fregiarsi di diventare la sfidante ufficiale o lo cyber numero uno, che dir si voglia, della nostra nemica odiatissima. Dacci oggi la nostra vittoria settimanale e rimetti a noi i nostri tre punti, come noi li rimettiamo alla nostra classifica, che ne ha tanto tanto bisogno per mantenere il primo posto in classifica e anche naturalmente per aumentare ulteriormente direi in maniera importante il vantaggio sulla quinta in classifica, che salirebbe addirittura ben 18 punti, una cosa bellissima. E non ci indurre in Serie B, ma liberaci dalla sconfitta contro la Lazio e anche naturalmente dal pareggio, perché la sconfitta ci caccierebbe al terzo posto, seppure a tre punti dai primi e a due punti dai secondi. E il pareggio ci porterebbe a teoricamente due punti dalla nemica adabbatissima. Inoltre la sconfitta mi costringerebbe ad abusare del metodo di padre Pedro e sai già che ne faccio un uso continuo durante la settimana, un uso e un abuso e non è bello sapete che abusare di certe cose non è mai bello anche se fanno bene teoricamente, tutto quello che fa bene se ne abusi poi diventa male. Quindi almeno alla domenica fai in modo che possa farne a meno. vero signore che mi posso fidare e che mi esaudirai? Ci conto tantissimo. Detto questo la nostra preghiera è terminata, potete andare in pace. Amen. Ma prima, come sempre, cari fratelli e sorelle nerazzurre, il nostro dobbiamo... dobbiamo... vi devo ragguagliare, vi devo ricordare sempre quello che ho detto prima, il consiglio che vi sto dando da tanto tempo, non sto a darvene i vari motivi, ve lo dico, è il metodo di padre Pedro alias Baspenza di Imporgi l'altra guancia, per evitare di dire cose sconvenienti, quindi per tranquillizzarsi eccetera, quando vi arrabbiate per qualche cosa, per calmarvi, metodo padre Pedro, che è il seguente. San Camillo, San Camillo, fammi stare un po' tranquillo. San Tommaso, San Tommaso, or mi viene la mosca al naso. San Clemente, San Clemente, fa che sia molto paziente, che se perdo la pazienza devo fare penitenza. Bene, cari fratelli e sorelle nerazzurre, vi mando la via benedizione, buona partita a tutti e ci vediamo settimana prossima. Amen.